Le parole, le parole sono tutto, sono lo strumento vero, perlomeno quello riconosciuto. Le parole sono il martello, l'ascia, il coltello, tutto quello che noi usiamo per farci capire. Poi nel corso del lavoro abbiamo, come dire, alzato il coperchio delle parole, ci abbiamo infilato dentro, abbiamo farcito tutto questo di pensieri, di ascolti, di gambe, di tante altre cose. Poi abbiamo rimesso il coperchio delle parole, allora ci siamo accorti, lavorando, gli attori si sono accorti che quelle parole che suonavano in un certo modo alla prima prova, alla terza, alla quarta prova, suonavano in maniera sorprendentemente diversa, evidentemente era stato fatto un cammino, era stato fatto un percorso.